Buongiorno a tutti gli amici di Volonbrite, siamo al Moviso Sporting Club per il torneo di tennis in compagnia con Massimiliano Banci. Ciao Massimiliano. Ciao a tutti. Allora, questa mattina una partita che ti ha visto sconfitto contro Tratter, che partita è stata? È stata una partita, entrambi i set sono partiti equilibrati perché comunque siamo andati entrambe le volte su tre pari. Lui esprime ora un tennis difficile da affrontare come avversario, io forse quando appunto dovevo fare mordere un po' di più, forse ho sbagliato un pochino troppo e quindi poi niente, 6-3-6-3, però insomma ci sta perché lui è veramente bravo. Quali sono i suoi colpi che hai patito un po' di più e invece in cosa ti sei piaciuto in questa partita? Vabbè, è come sempre, io giocando meglio di rovescio, sono piaciuto il mio più rovescio, lui gioca meglio di dritto, però il rovescio ti mette una palla bassa che comunque ti dà noia e quindi da dover gestire. Sono piaciuto il servizio e la rete, quello sì. Un'esperienza nel tennis che dura da quanto tempo la tua? Allora, io sono partito a volerlo fare diciamo un po' più professionale dal 2012, ho sollevato diverse soddisfazioni, quindi andiamo avanti. Un giudizio su questo torneo, su questa esperienza? Ah, qui allo Sporting ci stiamo sempre bene, ci abbiamo fatto il raduno, ci abbiamo fatto campionati italiani, quindi quando fanno un torneo qua sono sempre, vengo sempre con grande piacere perché comunque ottima organizzazione, ottimo tutto, Margherita spettacolare, insomma. Chi ti piace di più dei tuoi avversari? Chi hai visto più in forma? Chi vince, insomma, secondo te? Allora, chi vince non lo so perché visto che Silvio Culea se la sta un po' complicando, però chi mi piace di più come istintività e come colpi è Silvio Culea che tra l'altro è anche attualmente il numero uno d'Italia. Insomma, una previsione per Culea. Ti ringrazio, ti saluto, ti auguro in bocca al lupo, programmi per il futuro? Ma ora ho fatto sette tornei in due mesi, un po' di stacco ci vuole, anche perché io lavoro a uno studio come commercialista, quindi è sempre più difficile conciliare i tornei. Comunque, poi organizzo Firenze, quindi il prossimo appuntamento Firenze sicuramente a fine luglio. Fine luglio, quando, che giorni? 19.22. Grazie Massimiliano, complimenti in bocca al lupo. Grazie a tutti. E ciao a tutti.